L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità dedicano il mese di aprile alla prevenzione alcologica. Il consumo di alcol in era Covid-19 rappresenta un'emergenza sanitaria. L'aumento dei consumi è preoccupante. L'incremento delle vendite di alcolici online del 425%. Il 63% degli italiani ha aumentato il consumo di alcolici. Tra le persone che hanno patologia alcol correlata si evidenzia un significativo incremento del rischio della ricaduta e lo stato di sofferenza delle famiglie aumenta. La ASL di Pescara ricorda che il consumo di alcol non protegge in alcun modo dal Covid-19 o impedisce di essere infettato. Al contrario, chi fa un consumo dannoso di alcol è ad aumentato rischio di infezione. Nel tempo della pandemia l'attività clinica presso il servizio di alcologia Sard ASL Pescara non è stata mai sospesa la persona che presenta problematiche alcol correlate e frequentemente sottoposta al rischio di ricaduta con peggioramento delle condizioni psicofisiche e quindi necessita di un monitoraggio clinico e di un sostegno psicologico. Inoltre si evidenzia che i gruppi di automutuo aiuto anche in modalità online sono un importante riferimento per le persone con problematiche alcol correlate e per le loro famiglie.